Ancora ben trovati dalla redazione di Chirenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strada e autostrada della Toscana. Segnaliamo in A1 la presenza di personale su strada nelle due direzioni tra Aglio e Calenzano e tra Sasso Marconi e Aglio. In A11 i possibili disagi per veicolo fermo in avaria tra Pistoia e Prato Ovest per chi viaggia verso Firenze in Fipilì, i cantieri aperti tra Ginestra e la Strassigna, ancora una volta in direzione del capoluogo. Un sguardo alla canteristica a partire da domani, lunedì 8 maggio, al Via. Nuovi lavori di risanamento della pavimentazione sulla strada statale 679, raccordo Arezzo-Battifolle. I lavori si svolgono in un aereo lotturno dalle 20.30 alle 6.30, con deviazioni sull'itinerario alternativo sulla SP21 fino a Pieve al Toppo e sulla statale 73 verso Arezzo e viceversa, ulteriori dettagli sui nostri canali social. Buon versetto di Scara Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.